Hola bandini bentornati in questo nuovo video sono le 2.40 di notte ragazzi guardate l'inventario guardate che cavolo c'ho nell'inventario guardate quante gemme ho e finalmente forse riusciamo ad andare al tier 8 ragazzi allora voglio andare a vendere tutto quanto speriamo di riuscire a farcela e soprattutto si sono le 2.40 ho minato fino adesso veramente ho minato fino adesso e ragazzi non ce la faccio più non se ne può più è una cosa improponibile allora abbiamo fatto 84.000 si dovremmo farcela in realtà ragazzi dovremmo farcela trasformare tutti questi blocchi di smeraldo e via 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 di vendite ecco qua toh mangia che buono mangia che buono e 109.000 perfetto ragazzi siamo arrivati a 9 milioni ah si a 9 milioni a 10 milioni e già che ci sono oramai vendiamoci anche il resto ok ragazzi ultima vendita siamo a 10 milioni 10 milioni e 100 qui e 138.000 pardon quindi facciamo warp tier 7 ok e andiamo a sbloccare sto maledettissimo tier 8 vediamo subito 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 com'è dopodiché ci trasferiamo all'isola allora tu qua 10 milioni dammi immediatamente abbiamo comprata siamo al tier 8 ragazzi non ci posso credere allora esploriamo subito qua sopra ci dovrebbe essere la donor aerea ok va bene è la cosa non ci interessa guardate che carina questa zona qua dopodiché qua c'è la miniera dove vedo già abbastanza smeraldi e tutto è solo curiosa di sapere quanto costerebbe il tier 9 quanto 15 milioni ragazzi 15 milioni e abbiamo soltanto 138.000 vabbè andiamo a vedere che cosa offre il tier 8 offre di nuovo blocchi di ferro un sacco un sacco un sacco di smeraldi ma veramente un sacco ok ma tanto quindi a differenza del tier 7 abbiamo di nuovo i blocchi di ferro e va bene un po di diamante ferro diamante blocchi d'oro blocchi di ferro e la madonna che è successo vabbè vabbè tanto mi si sta anche rompendo il piccone quindi fuori 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 che è successo qua perché sono qua sotto perché perché vai sali su ok perfetto ragazzi abbiamo finalmente raggiunto il tier 8 ora voglio prendermi giusto io ho il problema che porca di quella vacca cavolo cavolo mi piazzo a scavare non mi stacco più ok allora voglio andare un attimino allo spawn vendere a sto punto questa roba che ho raccolto e andare in isola perché come potete vedere ho 404.000 gold e 339.000 elisir vorrei 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 fare altre miniere e altri estrattori ma prima vendiamo tutto questo ok perfetto dopo di che slash island ok e vediamo un pochettino cosa possiamo fare allora no tu no tu no tu no allora aspettate un attimo level up gold 750.000 però no 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 facciamo le strutture allora uno poi facciamo un'altra gold mine dammi un'altra no elisir pomp ok e li andiamo a posizionare e andiamo a posizionare le andiamo a posizionare le andiamo a posizionare e ha un mezzo problema li mettiamo una lì e una laggiù per forza quindi una qui ok una qua giù e piazzati 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 ok perfetto e poi andiamo 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 a prenderci la voti mine ce l'abbiamo questa ci serve il town hall al 6 cannoni e io direi prendiamoci un'altra torre dello segone che dite più difese più di piazzati piazzati schifoso ok allora vediamo un pochettino 36.000 gemme possiamo portarla almeno a livello 2 e ok e abbiamo finito di nuovo le gemme poi 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 ok io direi portiamo a livelli alti gli estrattori e tutto a livello 6 possiamo portarlo anche volendo a livello 7 ci contiene 6.500 ok in realtà potremmo allora lo possiamo portare a livello 8 l'estrattore aumentiamo anche l'altro estrattore così pareggiamo tutto via schifo ok e ok e dovremmo essere a posto perfetto dopodichè andiamo dovrebbero essere tutte e due lo stesso allora 6.500 vediamo l'altra dovrebbe mantenere 6.500 sono ancora senza voce ragazzi ok 6.500 bene possiamo andare nella miniera questa prima tiriamo su questa intanto mangiamo abbiamo anche un voto token ragazzi magari se riusciamo andiamo anche a farci la war allora 4.500 quindi così ok e così perfetto perfetto inizia ad esserci un po' di roba dentro va bene va bene adesso andiamo ad ampliare anche l'altra e abbiamo fatto altre due strutture per le risorse quindi sbam 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 possiamo farlo ancora possiamo farlo ancora 6.500 anche per questo ragazzi abbiamo utilizzato tutte le strutture che avevamo in nostro possesso e che figata figata veramente ok ok 6.500 6.500 dovrebbe essere a posto vediamo ok 6.500 e 6.500 perfetto 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 ora vediamo se riusciamo a tirare su anche questo con 6.000 gemme 18.000 gemme 54.000 non ce la facciamo più vabbè 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 meglio di niente meglio di niente dai tranquilli eh sì perché purtroppo queste qua si tirano su con le risorse con le gemme e per ampliare questa 50.000 gemme no no va bene così va bene così questa io non ho capito ancora come caspio funziona non fa niente questa così 44.000 gemme ragazzi possiamo uppato upgradeato tutto ciò che potevamo upgradeare nel prossimo video magari faremo una bozza di di mura vediamo un pochettino se riusciamo e non possiamo comprare più niente immagino esattamente esattamente va bene ok allora poi possiamo posare questa roba qui questa roba qui dentro se questo davvero via sparisci ok e ragazzi possiamo volendo provare no ma io 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 ho paura di lasciarlo qua il piccone lasciamolo allo spawn tipo qua dentro posso lasciare queste ceste non si aprono no in realtà una cosa che volevo provare in un prossimo video ragazzi erano le machine le come si chiamano le come si chiamano le macchinette la mannaggia intanto attivo il voto e token ok e mi prendo delle mele se ce le ho ok perfetto facciamo così ok e slash ride vai andiamo utilizziamo porca di quella bruttana ma stiamo scherzando no 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 island subito scherziamo scherziamo anche qui porca vacca fatto la muraglia di cactus sto schifoso sto schifoso aia devo guardate lì allora ce la posso fare volendo volendo ce la posso fare e dopo mi frega anche il cibo sti cavoli vai entriamo aia wizard a due fornaci che fornaci che cuociono fornaci che cuociono fornaci che cuociono fornaci che cuociono e tipo buone blocchi di carbone che mi prendo tutto ragazzi hello ok questo qua deve ma io non ho capito io non ho capito ma io posso attaccare la gente che offline o cosa senti mi frego pure porca vacca le cose che sta cuocendo a sto punto ha un bel p e azzo 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 questo ne ha di roba cazzo 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 veramente quante roba c'ha cibo a go go bistecca ok io mi prendo pure questa roba qua sto continuando a cuocere non si sa cosa ok via via ottimo bottino veramente ottimo bottino ottimo ottimo qua in mezzo che cosa che non ho guardato perfetto non ha niente ah e non abbiamo ancora preso le risorse qua fuori attenzione allora 5.500 5.500 altri 5.500 qua ok dovrebbero essere 6.500 5.500 invece questo 5.500 no 6.500 come i miei ok questo dovrebbe essere 5.500 ok e poi non ne dovrebbe più avere no non ne ho più bene molto bene molto bene molto 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 bene e però gli frego anche queste cose qua dammi tutto dammi tutto 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 ok ok perfetto bene e perché no anche i cocomeri anche i cocomeri e anche le zucche non te le prendo tutte tranquillo mmm il cactus ma no highland anzi sì highland allora questo via via tutto quanto poi andiamo a vendere tutto dopo via 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 ok tranne le patate che me le porto da mangiare ride siamo pronti anche questo mi sa che è un malvagio come 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 roba vai sali sei tutti noi sei tutti noi non ci possiamo fare ah io mi faccio male questo si può rompere sì sì e voilà eccolo è fatto wizard all'1 perfetto non dovrebbe essere nulla di difficile quello di prima è stato veramente un bellissimo bottino ragazzi ok 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 però senti guarda ti lascio pure sta roba ecco proprio non mi va che cavolo ho visto ehi ok no non è niente questo ragazzi inutile che guardo andiamo a prenderci le risolle subito qua 5000 perché magari riusciamo a riusciamo a duppare qualcos'altro volendo no qua non è fattibile da dove cavolo posso entrare di qua ok ho la l'estattore di qua e va bene la miniera qua e va bene e basta finito così schifo va bene schifo veramente slash ride vai veloce veloce proprio molto casuale ok ce la facciamo tranquillamente qui questo non ne manca la pietra cos'è i mattoni è un mattone ancora più avanzato ha soltanto una torretta degli arcieri è un guardiano schifoso a fare la guardia appunto dai ci dobbiamo di subito proprio istantaneamente 9005 ok e anche 9005 mamma mia mamma mia raga mamma mia ragazzi i mystic attenzione ride ok è finito quindi abbiamo 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 non riusciamo a tirare su ancora un altro estrattore di elisir dai fammi vedere upgrade 192.000 192.000 no non ce lo facciamo va bene ragazzi per questo video è tutto abbiamo upgradeato un pochettino l'isola abbiamo fatto due nuove strutture portate al livello che ci interessavano abbiamo utilizzato un vote token per prendere un po' di materiali anzi è ci è andata benissimo dobbiamo andarli anche a vendere quindi adesso andiamo immediatamente a vendere dove li ho messi ok tipo blocchi di carbone tutta sta roba qui questo 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 tutto tranne il cibo diciamo ok va bene così ok via sta roba ci prendiamo anche l'ossidiana andiamo a vendere questa roba qui ragazzi facciamo così perfetto e in più siamo arrivati al tier 8 e si ragazzi è stato faticoso abbiamo passato ore e ore e ore e ore in live però dopo un po' ho fatto anche un pochettino off camera perché stare in live perennemente a minare dopo un po' può essere veramente 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 scocciante quindi lana blu ok blocco di pietra rossa ma vaffanbagno ma vendiamo tutto così sti cavoli ok e l'ossidiana ce la teniamo bene ragazzi con questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ci vediamo nei live che dovrebbe essere dovrebbe essere se non sbaglio stasera e non so su che cosa quindi link in descrizione ci vediamo in live ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti